Mente penale, visto che la magistratura ci sta mettendo le mani sopra e sono evidentemente delle marchette dei favori o ai compagni o alcune aziende che neanche sono pubbliche, che neanche sono italiane, a volte sono anche aziende straniere, quindi non si comprende proprio quale sia la motivazione, dove sia il rispetto del bene pubblico e dei soldi dei cittadini italiani. E se io fossi oggi membro di governo mi sentirei fortemente in imbarazzo di rappresentare non la Repubblica, non i cittadini italiani, ma qualcuno, qualcun altro che governa le mie scelte, che governa le mie leggi, che governa i miei emendamenti, che non vanno nel bene dei cittadini, che non vanno nel bene delle grandi lobby che governano questo Paese e che governano anche questo Governo. Grazie Presidente. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.318 dei deputati Duranti ed altri concernente iniziativa di competenze in ordine alla mancanza di trasparenza e tempestività da parte della gestione commissariale dell'ILVA di Taranto nella comunicazione dell'aumento dei livelli di diossina agli enti preposti al monitoraggio dell'inquinamento. Chiedo alla deputata Duranti se intende illustrare la sua interpellanza. Prego, onorevole. Sì, grazie, signora Presidente. Intendo illustrare l'interpellanza. L'intempelanza in oggetto si riferisce, appunto, come è stato ricordato, ai valori record di diossine rilevati nel quartiere Tamburi di Taranto. Picchi di diossine fino a 40 volte superiori al valore soglia. I fatti sono ormai tristemente noti, però serve ricostruire ciò che è accaduto. Il 24 febbraio l'ILVA ha consegnato all'ARPA i risultati di sei deposimetri. Per la verità, più che consegnato all'ARPA, l'ARPA aveva ricevuto semplicemente dei dati di sintesi e l'allora direttore dell'ARPA Puglia, il dottor Giorgio Assennato, è stato costretto ad inviare in ILVA un ufficiale di polizia giudiziaria per avere i dati completi. Sono stati consegnati quindi i risultati di sei deposimetri. Quello sistemato all'esterno, cioè nel quartiere Tamburi, registrava dati incredibili e inaccettabili. dati emersi da analisi condotte tra il novembre 2014 e il febbraio 2015 e inseriti in una relazione messa a punto dal Politecnico di Torino. I picchi più alti, secondo quanto appunto espresso dal direttore dell'ARPA Puglia Assennato, sono paragonabili, assimilabili a quelli rilevati nella discarica di Giuliano, la peggiore della terra dei fuochi. La stessa ARPA Puglia ed il suo direttore generale individuano ed indicano la compatibilità dell'impronta di questo tipo di diossina con, cito testualmente, materiali polverulenti contaminati in misura estremamente alta, quali le polveri di abbattimento dell'impianto di sinterizzazione dello stabilimento siderurgico. Nello specifico, negli ultimi due anni, il rischio della dispersione nell'area della diossina si è aggiunto quello legato alla possibile ingestione della stessa, direttamente o indirettamente tramite la catena alimentare. Le polveri in questione sono compatibili con quelle provenienti dai filtri dell'impianto di abbattimento delle diossine presente nel siderurgico Tarantino, che devono essere, lo voglio ricordare, smaltite in discariche per rifiuti pericolosi fuori dal territorio regionale della Puglia. I picchi di diossina, come detto, si erano riscontrati nel novembre del 2014 e nel febbraio del 2015, ma in base a quanto scritto dall'ingegner Maurizio Onofrio del Politecnico di Torino, incaricato per conto dell'ILVA della relazione in questione, i valori non sarebbero imputabili agli scarichi del siderurgico, poiché, anche qui cito testualmente, le impronte digitali delle diossine non corrispondono a quelle dell'ILVA. L'ARPA Puglia, nella persona del suo direttore, con una nota inviata alla Presidenza della Regione in data 2 marzo 2016, ha messo in discussione la ricostruzione e le risultanze fatte dal Politecnico. Ha sottolineato in particolare come all'eccezionale aumento di diossine rilevate nel deposimetro del quartiere Tamburi, non ha corrisposto un aumento della quantità complessiva di polveri raccolte dal deposimetro. Ancora che la concentrazione delle diossine in tali polveri ha raggiunto limiti così elevati da essere confrontabile solo con materiali polverulenti contaminati in misura estremamente alta, quali le polveri di abbattimento delle emissioni dell'impianto di sinterizzazione dello stabilimento siderurgico. E inoltre ha rilevato che il confronto tra i profili dei congeneri delle diossine e delle polveri raccolte dai deposimetri nei due mesi incriminati e quelli delle polveri di abbattimento dell'impianto di sinterizzazione dello stabilimento porta a credere che le polveri abbiano la stessa matrice. Come denunciato sia dall'ARPA Puglia che da associazioni ambientaliste come Lega Ambiente Taranto, nella pubblicazione dei dati riguardanti l'incredibile aumento di diossina è mancato, e questo diciamo è l'elemento centrale della nostra interpellanza, appunto l'elemento della trasparenza da parte della gestione commissariale dell'ILVA e della tempestività. Anche secondo noi la gravità della questione avrebbe richiesto immediata comunicazione alle autorità locali, alla ASL e agli enti preposti al monitoraggio e al controllo dell'inquinamento, proprio a partire dalla stessa ARPA Puglia. La mancanza degli elementi di trasparenza e di tempestività rende di difficile comprensione cosa abbia provocato tali anomalie nelle emissioni, oltre che la precisa individuazione delle responsabilità. Il tutto con l'aggravante della gestione commissariale del siderurgico che nei fatti identifica una gestione riconducibile all'ambito statale. Voglio ricordare che l'ILVA è in amministrazione straordinaria e che appunto la struttura commissariale è nominata dal Governo. Per questo, con questa interpellanza, noi chiediamo al Governo se sia conoscenza di quanto appunto abbiamo espresso nella nostra interpellanza. In caso contrario, se intenda accertare quali siano i motivi per cui non sia stato informato dai commissari dell'ILVA, se il Governo non intende appurare al più presto le motivazioni, oltre che le responsabilità che hanno portato i commissari a non comunicare tempestivamente i valori riscontrati alle autorità locali, alla ASLE, agli enti preposti al monitoraggio dell'inquinamento. Voglio ricordare che c'è una cosa ancora che aggrava, se possibile, la situazione. Il giorno dopo, il 25 febbraio, il giorno dopo che i risultati sono stati trasmessi all'ARPA, nella Commissione Attività Produttive della Camera, si è svolta un'audizione dei commissari dell'ILVA, che ovviamente si sono guardati bene da riferire al Parlamento i dati che riguardavano i picchi di diossina. Questa è una cosa che io considero gravissima. Il Parlamento, ancora una volta tenuto all'oscuro e non preso assolutamente in considerazione rispetto a quello che succede dentro l'ILVA e fuori dell'ILVA di Taranto. E infine chiedo al Governo quali iniziative si intendano intraprendere per quanto di competenza per appurare le ragioni e le responsabilità di quanto accaduto e quali interventi intenda rispondere per la salvaguarda della salute dei lavoratori dell'ILVA e dei cittadini della provincia di Taranto. Grazie. Grazie. Il Sottosegretario per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, ha facoltà di rispondere. Prego, Sottosegretario. Grazie, Presidente. Occorre preliminarmente chiarire e riaffermare alcuni aspetti. Allo Stato attuale non esiste alcun limite nazionale cogente per i valori di deposizioni di diossine e furani relativi alla qualità dell'area urbana. Autorevoli ricerche scientifiche di rilievo internazionale riguardanti la deposizione di diossine e furani in aree urbane industriali mostrano che in tali aree non è insolito trovare centinaia di picogrammi di tossicità equivalente per metro quadrato al giorno. Tali valori sono stati confermati dai dati della Commissione europea e dal programma danese sulle diossine. L'utilizzo delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'area da parte di ILVA è relativo alla prescrizione numero 85 del riesame dell'autorizzazione integrale.